musica 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 aspetta non è mica tanto voglio che alzi la bambina e la metta sul balcone sul balcone piove piove sul balcone si ho lasciato il bucato fuori sullo standino musica 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 alzi la bambina la metta nel soggiorno metti il latte due fette biscottate segni la spesa tolga lo standino dal balcone e faccia il caffè musica 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 forse io ho trovato un lavoro Citta! Che lavoro? Alla televisione! Citta! Me l'ha trovato Michele! Michele? Era questo che mi dovevi dire prima? Sì! Strano, però non mi ha parlato di questo lavoro che ti ha trovato ieri sera, pure siamo stati a lungo insieme ieri sera io e Michele, a lungo, a camminare avanti e indietro, io con gli occhi fissi sulle sue pantofole, mai visto delle pantofole così, enormi, tutte però, le trovavo ridicole, però anche affascinati, oddio, io non le metterai mai! Lungo tutta la strada... Ma no, me la progetta va bene, perché sei poco esigenza! Vedi, il fatto che sei poco esigenza! Non ti adatto! La concetta lo spuola! Non pulisci! Sì, c'è un dito di ponte! Non te ne importa niente! Niente! Non ti adatto! E' brutta questa casa! Brutta! Ti adatto! Brutta casa! Paghiamo poco! Paghiamo poco perché è brutta! Brutta casa! Buia! Senza un posto dove stare! C'è un soggiorno che chiamano soggiorno! E' un buco! E tu li devi sempre di solo! Brutta! Quei pigiovi della bambina sparsi dappertutto! Ma quali di bambina questa bambina? Sei pigiovi sempre dappertutto! Sono tutti soffatti! Sono tutti soffatti! Sono tutti soffatti! A Urbino! Nella piazza di Urbino! Mi portano il latte per la bambina! Grazie! C'è un vento terribile! Tovaglie rosse sui tavoli! E' un bufo! Si, c'è un bufo! Ricordo quel bufo! Mi ricordo tutto! Tutto ricordo! Sono passati due mesi! Era marzo! E' marzo ma fa freddo! Fa molto freddo! E c'è vento! C'è un vento terribile! La bambina beva le mani gelate! Non è tuo questo tempo! Di stato svanito! Però è tua la memoria! Una grande stufa ci scalda! Porta una polenta del vino! Vino è polenta! Tu ordini agnolotti! Ma per gli agnolotti ci sarà da aspettare! Ricordo tutto! Tutto ricordo! La bambina piange! Esco dalla trattoria per calmarla! Anche Michele esce! Porta il calcio cavallo in macchina! Spegni la luce! Perchè? Voi parlare al buio! Poi parlare al buio! Grazie a tutti.